Buonasera a tutti, grazie di essere qua. Io non sono un presentatore, quindi mi improvviso un pochettino. Stasera siamo qua a presentare l'apidramma. Molti non so se la conoscono, molti forse la conoscono. E' la batteria in vetroresina. Molti penseranno che la vetroresina sia un materiale acustico, ma è sbagliato. E' un ottimo materiale acustico. Infatti ci fanno sia violoncelli, sia bondi, sia... Molte professioni le fanno anche in vetroresina. E' un ottimo materiale acustico. Stasera il nostro Francesco Farinelli ci farà sentire. Qui abbiamo praticamente un modello crucio, un cast da 18, un tom da 10, un tom da 12 e un timpolo da 14. Un rullante da 14 per 8 pollici e un rullante da 12 per 7 pollici. L'idea è data quando io, da giovane, si parla di 30 anni fa, avevo problemi con la batteria in legno, che suonavo in una cantina molto umida, quindi con umidità in legno si gonfiava, si scordava, insomma, creava molto forte. E mi sono fatto la prima batteria di vetroresina, la classica batteria tradizionale. Perché ultimamente ci siamo dedicati un po' a queste forme strane. Giornoезna Il zones Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.